bentornate sul mio canale e qualche giorno fa ho visto una foto su pinterest che di questa diciamo questa mattonella io l'ho rielaborata perché non avendo uno schema l'ho leggermente rielaborata non la ritrovo la foto altrimenti ve l'avevo già messa nella nel gruppo nella community però siccome molto molto carina io l'ho fatta in questi due colori il color polvere e il bianco laminato però si può fare in tantissimi colori è molto semplice e veloce da fare e può essere un'idea da mettere come bordo di una maglia oppure come bordo nelle mani manichine di una maglia o perché no fare tutte le astrelle e farci una stola volevo darvi questa idea e spero che vi piaccia adesso ne facciamo un'altra insieme allora prendiamo l'uncinetto il filato l'importante che è un filato che si lavori massimo con il tre tre e mezzo non di più insomma abbiamo sei catenelle quindi una due tre quattro cinque e sei e chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima poi in questo cerchietto facciamo una catenella rientriamo e facciamo una maglia bassa in questo modo una maglia bassa poi 3 catenelle quindi maglia abbassa più 3 catenelle e una maglia altissima carichiamo il filo due volte e facciamo una 2 e 3 maglie altissime poi facciamo 3 catenelle 4 catenelle 1 2 3 e 4 e facciamo una maglia bassa poi una 2 3 e 4 carichiamo due volte il filo e ripetiamo quindi dobbiamo ripetere questo per quattro volte quindi dobbiamo fare quattro petali ci vediamo al termine del giro abbiamo fatto l'ultimo petalo le 3 catenelle chiudiamo cioè andiamo nella maglia bassa e ci chiudiamo con una maglia bassissima e tagliamo il filo con una forbice tagliamo il filo poi ed ecco qui la base diciamo poi la sistema di voi con le mani a e nascondiamo i fili questo lo possiamo tagliare di già e questo andiamo a nasconderlo l'andiamo a nascondere all'interno delle della lavorazione lo facciamo praticamente sparire in questo modo e andiamo a tagliare e questo è la parte centrale della mattonella lo aggiustiamo poi un pochino adesso con l'altro colore che voi sceglierete io faccio con il bianco cosa andiamo a fare prendiamo il filo entriamo dietro la maglia bassa con l'uncinetto agganciamo il nuovo filato e facciamo una catenella scusate andiamo a fare una maglia bassissima ecco qui poi c'è un piccolo nodino poi rientriamo sempre dietro agganciamo il filo e facciamo una 2 3 e 4 catenelle dalla parte retro del fiore e facciamo una maglia bassissima entrando nelle due costine della maglia bassa e andiamo a chiuderci con una maglia bassissima poi una 2 3 e 4 catenelle e facciamo la stessa cosa nella maglia bassissima cioè scusate nella maglia bassa nel retro andiamo ad inserire uncinetto e facciamo una maglia bassissima dobbiamo fare praticamente quattro archetti di quattro catenelle scusate di quattro catenelle guardate questa mattina una due tre e quattro andiamo a chiuderci sempre piegando in avanti nella maglia bassa entrando nelle costine retro della nostra maglia bassa con una maglia bassissima facciamo attenzione ecco qui e abbiamo fatto 1 2 e 3 ne manca l'ultimo quindi 1 2 3 e 4 e andiamo a chiuderci sempre nella parte retro dove abbiamo fatto la maglia bassissima quindi ci chiudiamo con una maglia bassissima adesso che cosa facciamo noi dobbiamo lavorare all'interno di questi archetti facendo 6 maglie alte triple quindi voltiamo facciamo così ci portiamo con una maglia bassissima all'interno dell'archetto e facciamo una due tre quattro cinque catenelle carichiamo una due e tre volte il filo sull'uncinetto e facciamo usciamo da due da due da due da due da due due tre volte il filo 1 2 e 3 entriamo usciamo da due da due da due da due da due da due 1 2 3 4 e 5 catenelle e facciamo la maglia bassissima ha sempre all'interno dell'archetto poi ci spostiamo nell'archetto successivo e ripetiamo quindi dobbiamo ripetere questo per quattro volte ci vediamo al termine siamo arrivati al termine abbiamo fatto le ultime cinque catenelle adesso maglia bassissima nell'archetto e chiudiamo il giro in questo modo maglia bassissima tagliamo il filo e abbiamo terminato anche il giro successivo allora sistemiamo sistemiamo in questo modo ecco qui adesso dobbiamo fare il giro successivo quindi nascondiamo sempre il filo dietro intanto questo lo possiamo tagliare nascondiamo il filo sempre passando attraverso i punti andiamo a nascondere in questo modo attraverso tutti i punti nascondiamo e tagliamo il filo poi adesso che cosa facciamo prendiamo e l'altro colore quello che voi avrete scelto e andiamo a lavorare entriamo qui in un punto nel punto delle 5 catenelle con una maglia bassissima quindi facciamo una catenella rientriamo e facciamo la maglia bassa quindi in questo caso ci possiamo nascondere anche il filo e lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta tripla in questo modo e l'ultima la lavoriamo sulle 5 catenelle poi tagliamo il filo che ci siamo portati dietro adesso facciamo una due tre quattro cinque sei sette otto e nove mi dirò un po di filo saltiamo nella catenella nelle cinque maglie entriamo nella quinta catenella e facciamo il punto basso e proseguiamo un punto basso per ogni malta maglia alta tripla quindi questo è un giro di punto basso 9 catenelle 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e andiamo sulla quinta delle 5 catenelle che sostituivano la maglia alta tripla e maglia bassa quindi dovete ripetere questo fino al termine del giro e poi ci rivediamo abbiamo fatto le ultime 9 catenelle ci chiudiamo sulla maglia di inizio giro con una maglia bassissima e in questo caso facciamo la stessa cosa tagliamo il filo in questo modo adesso dobbiamo fare il giro con il filato scelto da me filato bianco questo magari lo nascondiamo dopo perché ce lo possiamo portare dietro prendiamo l'altro colore io ripeto per me il bianco laminato voi vedete i fili diciamo i colori di del filato che avete in casa non è un problema iniziamo sempre inserendoci su una maglia agganciamo il filo carini facciamo una catenella rientriamo e facciamo la maglia bassa e quindi lavoriamo la maglia bassa per ogni maglia bassa e in questo caso una catena una maglia bassa per ogni catenella allora in ogni catenella lavoriamo una maglia bassa quindi una 2 in questo modo quindi questo è l'ultimo giro quindi terminiamo tutto il giro appunto basso ci rivediamo abbiamo terminato il giro ci chiudiamo sulla maglia bassa all'inizio giro con una maglia bassissima e tagliamo il filato andiamo a nascondere e la piastrella è terminata allora abbiamo terminato queste poi le aggiustate voi con le mani potete tirare tranquillamente sistemando la eccole qui andiamo a nascondere il filo anche in in questo caso andiamo a nascondere il filo dietro entriamo in una maglia e andiamo a passare dietro i punti lavorati per qualche maglia fino a farlo sparire quindi tagliamo e abbiamo fatto la nostra piastrella ripeto poi le sistemate la sistemate voi con le vostre mani eccole qui che ne dite quest'idea vi è piaciuta eccole quali piastrelline spero di avervi dato un'idea perché come ripeto mi sono imbattuto in una foto su Pinterest e se la ritrovo ve la posto è molto carina e mi è venuto in mente di farvi questo breve tutorial per farvi vedere come si realizza questa mattonellina e perché no poterci fare come vi dicevo un bordo per una maglia adesso dalla fotocamera si vedono un po storte ma poi ripeto una volta fatte le si aggiustano e un bordo per una maglia una una stola con tutte queste mattonelle con i vostri colori preferiti e le maniche di una maglia potete fare qualsiasi progetto l'importante che sia un progetto che utilizzate un filato non troppo spesso quindi spero di avervi dato un'idea di avervi fatto cosa gradita e noi ci vediamo in un prossimo progetto